Ciao amici di Gialla e Cucina, io sono Olivia Sambrotta e questo è il mio nuovo thriller Cristallo. Cristallo è un romanzo ambientato sulle Dolomiti Venete, nella bellissima zona del Cadore, rinomata per le tre cime di Lavareto. Qui prende il biene romanzo, infatti nello splendido chalet Cristallo, un rifugio ad alta quota, cinque amici si ritrovano il giorno di ferragosto per festeggiare una grigliata. Accade però qualcosa di terribile e tutto in pochi minuti degenera. Di loro si salverà soltanto Rachele, la mia protagonista. Rachele è una fotografa di 35 anni, dal passato misterioso, ma dalla fama internazionale. Di più non posso dirvi, se non che Cristallo è un thriller molto avvincente con un ritmo serrato che vi regalerà molti colpi di scena. Ci sono però anche molte emozioni legate alle diverse vicende umane che si intrecciano e che vi regaleranno suspense e sicuramente una tensione molto forte da thriller psicologico. Quello che posso dirvi è che fino all'ultima pagina voi non saprete chi è il carnefice e chi è la vittima. Io vi auguro una buona estate insieme a Cristallo. Grazie!